Green Note si inserisce all'interno di una programmazione importante nell'anno in cui Montesant'Angelo è capitale della cultura della regione Puglia. Un programma di eccezione che vede mettere insieme eventi di grande levatura da grandi artisti della musica italiana, Mecna, Daniele Silvestri, Nino Frassica, Latte Contemporanea con il maestro Michelangelo Pistoletto. Un evento questo, Green Note, che festeggia e celebra il sito UNESCO della Foresta Umbra, le Faggette Ventuste, insieme alla Dieta Mediterranea e al Jazz come riconoscimento UNESCO. Quindi un anno importante in cui continuiamo a valorizzare il brand della città di Montesant'Angelo, la città dei due siti UNESCO.